un saluto amici del centro meteo italiano stagione invernale che non vuole mollare la pressa sull'italia specie sul nord ovest con il ritorno della neve fino a bassa quota peggioramento del tempo atteso già dalle prossime 12 24 ore sulle regioni del nord italia con i primi fenomeni che inizieranno ad interessare i settori alpini e prealpini di lombardia vale d'aosta e piemonte fenomeni che assumeranno carattere nevoso dai 600 metri di quota in rapido calo del corso della nottata tra martedì e mercoledì 16 marzo come ci mostra la previsione nel dettaglio zoomata sul nord italia che potete tuttavia consultare sul nostro sito attendiamoci il ritorno della neve dalle prime ore del mattino anche sulle pianure o fondo valli del piemonte della valle d'aosta e dell'alta lombardia nevicate che potranno risultare anche piuttosto intense e copiose nel corso della giornata specie sul cunese ma anche sul tuorenese e sulle biellese solo in serata è notata attenuazione dei fenomeni iniziare dalla lombardia e alto piemonte mentre insisteranno ancora le nevicate sul basso piemonte dove la nevicata risulterà più intensa si prevedono fatti accumuli anche superiore ai 50 centimetri sul cunese ecco un estratto del modello del nostro centro di calcolo il quale ci indica la previsione del tempo e dei fenomeni piuttosto intensi sul piemonte per effetto stauco di venti merentali di matrice continentale al quanto freddi associati quindi a valore di temperatura prossimi allo zero fino a 200-300 metri di quota previsti già per la mattinata di mercoledì 16 marzo vi invito quindi a seguire i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione del mal tempo con le nevicate anche intense a nord ovest per non farvi cogliere impreparati un saluto dal centro meteo italiano